oh che cavernicolo carino dov'è il mio pulsante per il viaggio nel tempo? ciao uomo delle caverne ho qualcosa di meglio di un osso vieni qui ha funzionato! ecco questi sono cornflakes ti piacciono? sei carino oggi devo incontrare la mia amica non ci credo indossiamo la stessa cosa vai a cambiarti no, vacci tu non lascerò correre ma questo è esattamente ciò a cui serve una macchina del tempo ora tutto sarà diverso cosa? non può essere di nuovo basta non voglio più uscire cosa? è già mattina no, è troppo presto devo dormire ancora un po' userò la mia macchina del tempo la sveglia? no, dormirò ancora un po' la mia macchina del tempo mi aiuta a dormire fino a tardi quanto voglio una casa infestata una casa infestata? sarà divertente ehi, qualcuno cercherà di spaventarmi? io non ho paura non ho affatto paura niente mi spaventa tutto questo è finto ok, va bene pensi di essere spaventoso? ti faccio vedere come si fa paura a qualcuno vieni, fantasma vieni fuori non ho paura di te prendi questo ehi, signorina ma che fa? sto lavorando ups, questo è imbarazzante ehi dove sarà il mio volo? dovrò aspettare qui ai il mio ginocchio è imbarazzante oh mio dio ci siamo sono innamorata ma non posso iniziare così la nostra storia d'amore aiutami, macchina del tempo questa volta sarò elegante e fighissima ehi là, come va? un po' di flirt e gli faccio l'occhiolino hai qualcosa nell'occhio? è un tic nervoso? cosa? oh, che sfortuna ok, ci riprovo dovrò essere audace ciao, bello vuoi uscire? cosa? tesoro, chi è questa? oh mio dio ops, siamo entrambi nei guai scusa, non sapevo che avessi una ragazza ma almeno adesso sei single il mio programma preferito sta per iniziare ma dov'è il telecomando? telecomando, dove sei? eccolo finalmente oh, è così interessante il finale di stagione è oggi ho bisogno di cibo ho finito le patatine chi mi chiama adesso? ehi, smettila di distrarmi dovrò ricominciare da capo l'episodio ok, sono pronta ho il telecomando ho spento il telefono e ho del cibo posso godermi il mio spettacolo oh, cavolo il bollitore per il tè mi prendi in giro devo andare al negozio probabilmente non incontrerò nessuno mentre ci vado oh, cavolo classica legge di Murphy la conosco Penny, sei tu? sembri malata no, non sono io mi hai confusa che imbarazzo la macchina del tempo aggiusterà tutto ora sono pronta per un incontro inaspettato ai! wow, Penny sei fantastica sei stupenda tesoro, la cena è pronta buon appetito oh, i tuoi spaghetti istantanei iconici i miei preferiti cosa c'è? non ti piacciono? bene macchina del tempo andiamo tesoro, la cena è pronta è una zuppa sana è una zuppa sana e deliziosa mangia allora, ti piace? è così buona ancora non ti piace? sei proprio uno snob ok, ci riprovo tesoro, ho ordinato la pizza per cena wow grazie Penny è deliziosa davvero? ti piace così tanto la pizza? non sei niente di cucina casalinga Stanley la mia torta! ti prego, ti prego non bruciare non voglio il fuoco è rovinata nessuno vuole mangiare il carbone una macchina del tempo è la migliore amica di una casalinga la torta! stai bene? sono arrivata in tempo grazie mio eroe ciao! vorrei un taglio di capelli super elegante oh ma certo accomodati ho bisogno che le mie punte siano trattate che la mia frangia sia tagliata e più volume perfetto sei in buone mani non preoccuparti oh non avrei dovuto farlo ok, fatto alzati e risplendi ti assomiglio fai qualcosa no? niente, faccio io prima di tutto tornerò indietro nel tempo ciao voglio una nuova acconciatura non come la tua non come la tua qualcosa di totalmente diverso ok cosa ne pensi? ti piace? penso che sia angelico bionda bionda mi prendi in giro assolutamente no forza macchina del tempo ok ti do un'altra possibilità fammi un'acconciatura normale non come fai di solito è tutto quello che ti chiedo capito? per favore fatto guarda che bella onda cosa? è come se una mucca mi avesse leccato questo è troppo ciao sai una cosa? fammi le unghie e basta penso che tagliare i capelli non sia il tuo forte stiamo facendo un test sui nostri idoli e li mettiamo nel nostro diario amo Paco Suzuki è così figo wow siete una bella coppia e il mio futuro marito è Jimin è così bello aspetta piccolo ti incollo dai colla non ora oh no Jimin è un unicorno oh Penny come hai potuto? sistemo tutto io ho un bottone magico oh no è coperto di colla la mia macchina del tempo dove mi trovo? sono bloccata nel tempo come faccio a uscire da qui? ti è piaciuta la nostra macchina del tempo? scrivi qui sotto come useresti un pulsante magico e ragazzi iscrivetevi al canale mettete un like al video e cliccate sulla campanella non perdete i nuovi spassosi video di WooHoo